buongiorno oggi facciamo il pane ok 500 grammi di farina 10 grammi di lievito ok metti un po di acqua e poi 400 grammi di acqua 10 grammi di sale prima metti così sale dentro farina ok e poi gira così ok libido metti così e poi gira ok e poi metti acqua tutto così che poi gira ok ok e poi chiuso con film così e poi lascia più o meno una ora ok vediamo una ora ok guys ini udah jadi ini ditiris dulu minyaknya oke itu simple banget dan tidak banyak repotan guys cara bikinnya enak banget ini Oke guys jangan lupa di like dan di subscribe dan di share ke semua teman-teman kamu YouTube channelnya Mbak Evie bye bye see you next video Oke e questo dentro pentola 2 ok pentola e metti prima dentro più o meno 30 minuti ok per scalda ok ok poi metti dentro e poi metti dentro e apri un po di forno upset e poi metti così qui eh più o meno con tappet e eh con questo è più o meno eh 30 ok 30 minuti e poi vediamo anche così ok così il pane e poi metti dentro nel forno nel forno più o meno 20 minuti ok ok è pronto il pane ok buon appetito